Sono ripresi nei giorni scorsi, dopo circa due anni di stop, i lavori alla scuola media Romualdo Trifone di Monte Corvino Rovella. Nella fase conclusiva dell'intervento saranno effettuati lavori di pitturazione interna ed esterna e di completamento delle opere per la messa in funzione dell'impianto fotovoltaico. La riapertura del cantiere dopo circa due anni rappresenta per noi motivo d'orgoglio, spiega l'assessore ai lavori pubblici Carmine Falabella. Dal primo giorno ci siamo posti tale obiettivo come priorità ed oggi possiamo affermare di esserci riusciti. Condizioni meteorologiche permettendo, riconsegneremo la scuola alla nostra comunità in breve tempo.